Ciao ICN New York, è un piacere avervi qua e raccontarvi questa fantastica quarta edizione del Ferrara Film Festival. Io sono Maximilian Loh, è un piacere raccontarmi e raccontare a voi questa quarta edizione del Ferrara Film Festival. Quarto anno, ogni anno cresciamo sempre di più ed è un piacere ormai affermarci nella città e diventare una realtà internazionale, internazionale perché abbiamo film da tutto il mondo, abbiamo la fortuna di avere, di continuare a avere premiere mondiali europee e italiane. Ogni anno cresciamo sempre di più, aumentiamo gli eventi e facciamo più grandi, più belli, quindi è sempre un cammino per migliorarsi. Il festival inizia il 23 marzo e si conclude il 31 marzo, domenica, con una cerimonia di prevenzione Golden Dragon Awards. Il programma è ricchissimo, oltre al concorso abbiamo anche tantissime attività, facciamo anche Beneficenza, gara di Beneficenza, abbiamo anche fatto la Via del Cinema che è una nuova iniziativa iniziata l'anno scorso, appunto la Via del Cinema è un pezzo di Via Carlo Maier, una via adiacente al Cineparca Pollo, che sede delle nostre proiezioni, dove ogni giorno, ogni sera ci sarà un evento serale, un locale farà un evento a tema durante il Ferrara Film Festival. Ci sono tante altre iniziative, tanti altri eventi, ovviamente tutto è incluso sul sito ferrarafilmfestival.com dove potete trovare tutte le informazioni, altrimenti sarei qua a parlare mezz'ora perché il festival è diventato importante, quindi le attività sono tante. Vi aspetto dal 23 al 31 marzo, il 23 abbiamo anche l'inaugurazione di apertura con il film The Prodigy, un film americano, la prima ufficiale italiana, distribuita da Ingle Pictures, un thriller sopranaturale molto bello e seguirà una grande festa di apertura. Vi aspetto 23 al 31 marzo, Ferrara Film Festival. Ciao!